Un'idea fresca e saporita per gustare il couscous di grano duro del molino Borgioli? L'insalata di couscous con pesce a limone e aglio. Per prima cosa portiamo a bollore il brodo di pesce, togliamo dal fuoco e aggiungiamo l'olio aromatizzato con aglio ed erbette a piacere. Versiamo il couscous e copriamo il recipiente per 5 minuti. Nel frattempo prepariamo la vinaigrette emulsionando due cucchiai di olio d'oliva, uno di aceto, uno di senape e due pizziche di sale. Sgraniamo il couscous con una forchetta e aggiungiamo tutti gli ingredienti, i ceci, il prezzemolo, la frutta secca, la vinaigrette e mescoliamo. Infine cuociamo in un filo d'olio i filetti di pesce ed impiattiamo terminando con della buccia di limone grattugiata. Buon appetito! Buon appetito!